Se il tuo sogno è diventare un musicista professionista live o da studio, acquisire le competenze per la composizione di canzoni e imparare a muoverti nel mondo dell'industria musicale moderna, hai trovato quello che cercavi. I nostri corsi Bachelor in Music Performance della Gem Academy di Lucca ti offrono una formazione globale che comprende strumento, armonia, iartrimi, pianoforte complementare, musica d'insieme, marketing e autopromozione. A conclusione del nostro percorso di studio, otterrai un titolo finale universitario estero di primo ciclo, riconosciuto in tutti i paesi d'Europa e del Comovet grazie ai nostri accreditamenti internazionali. Focus del metodo è l'esercizio della pratica del fare musica che si concretizza nell'attività della live music con le eccellenze del panorama musicale italiano. La crescita di un musicista passa necessariamente attraverso la conoscenza dell'armonia, dell'arrangiamento e lo sviluppo delle capacità musicali creative. Prenota adesso il tuo incontro orientativo o partecipa al prossimo pendente.